Benvenuti a Quotidiano Medicina, l'economia della salute, tutti i giorni le notizie di focus di approfondimento, vediamo i titoli di oggi, confermato l'arrivo del virus influenzale al di là dei vaccini, 11 consigli essenziali, fondamentali. Una mappa psicosomatica delle emozioni, ad ogni emozione c'è una risposta diversa del nostro corpo. Dunque è confermato l'arrivo del virus dell'influenza dal 21 dicembre scorso, giorno del solstizio invernale, con i primi abbassamenti della temperatura ed i primi freddi mattutini, sono comparse puntuali le sindrome para-influenzali, parenti stretti dell'influenza, scatenando i tipici sintomi della freddore, febbre, dolori articolari, mal di testa, mal di gola, naso chiuso, senza dispossatizza. Ma l'influenza vera e propria dovrebbe arrivare in Italia a gennaio. Come farsi trovare preparati a questo appuntamento? Ed allora qualche utile consiglio. Poiché i virus vengono espulsi dalle persone già infette attraverso le microscopiche goccioline degli starnuti, bisogna stare almeno ad un metro di distanza durante le conversazioni. Negli autobus affollati bisogna coprirsi con una sciarpa bocca e naso per creare una barriera contro i virus. Terzo, dentro i locali dove lavorano più persone bisogna far cambiare ogni tanto l'aria. Quarto, evitare gli sbalzi di temperatura, anche quelli da locale a locale, perché è dimostrato che questi sbalzi provocano il blocco delle ciglia vibratili che poi rivestono le pareti delle mucose di narici e bronchi. Quinto, curare l'igiene, specie quella delle mani, che sono il maggior ricettacolo di virus a contatto con maniglie, penne, cornette del telefono. Lavando le mani per 15 secondi e per 5 volte al giorno si riduce il rischio di infezioni del 45%. Fondamentale anche l'alimentazione, evitare le abbuffate a tavola che affaticano l'organismo, rendendolo così più vulnerabile agli attacchi virali. Settimo, bere molto, la maggiore assunzione di acqua serve ad idratare le mucose del naso e della gola. Ottavo, bere spremute di agrumi, pompelmo, arancia, limone sono notoriamente ricchi di vitamina C. Nono, consiglio, bere tisane calde, meglio se con l'aggiunto di un cucchiaino di miele, perché oltre a rilassare libera un benefico calore che riattiva il movimento delle ciglia difensive vibratili. Decimo, evitare l'alcol perché disidrata le mucose e appesantisce il lavoro del fegato. Undicesimo, consiglio, assumere alimenti ed acque che contengono zinco, perché questo minerale migliora le funzioni di circa 200 enzimi e rende più efficiente il sistema immunitario. Il nostro corpo reagisce diversamente, in maniera diversa rispetto alle emozioni, amore, gioia, emozione, rabbia, paura e dolore. Ognuna di queste emozioni conferisce al nostro corpo e ad ogni parte di esso una reazione ben distinta. Un gruppo di ricercatori dell'Università finlandese di Alto ha messo a punto una ricerca pubblicata su Proceeding of the National Academy of Science, nella quale stila una vera e propria mappa delle emozioni umane. Vedete in questa grafica i punti rossi, quelli che sono i più vulnerabili. Sotto analisi, 700 individui tra Svezia, Finlandia e Taiwan, in modo da prendere in considerazione etnie differenti nel mondo. I ricercatori hanno potuto, tramite un questionario psicosomatico, far corrispondere ad ogni emozione una reazione corporea. La rabbia, tanto per dirne una, è come un'oppressione al petto e sul viso. L'invidia infuoca il volto. L'amore è una sensazione di calore che inebria tutto il corpo quando ci si trova dinanzi alla persona amata. Il corpo umano, insomma, secondo la ricerca, reagisce universalmente in maniera identica agli stimoli emozionali. Il risultato più affascinante di questo studio è lo stretto legame tra corpo e mente. Ciò che nasce nella mente viene rappresentato puntualmente nel corpo e gli schemi corporei delle reazioni sono culturalmente universali. Bene, è tutto anche per oggi per le notizie. Grazie per l'ascolto. Buon proseguimento di giornate. Linea alla regia. Grazie per la visione. Grazie.